ccpastici ma buonasera ma buonasera ci apriamo un baoletto su quake champions che questo è un leggendario porca troia non me la fatti vedere che cosa è questo si ho messo di leggendario allora prima di tutto cambiamo campione questo che è no questo può mi piace questo che non so se abbiano delle immagino di sì ma non lo so cioè volendo dovrebbero via di massima ecco avere delle delle cose in più abilità e anche le abilità che sugli arena non sono insomma ben tornati su tre progetto ha detto andato vi devo intrattenere anche dicevano su qualche gruppo ho trovato un bel personaggio è un ottimo intrattenitore ma non è un cazzo vale appena chissà quale sarà o che è l'iniezione di cosa tab per controllare ma scusa scusa ma stiamo giocando già no stiamo scaldando a che serve questo ho finito così già dobbiamo andare quindi ti do l'iniezione che potrebbe essere molto simpatico ehi bisogna capire che cosa ti dia questa ok ma che cazzo di arma è questa la madonna ma ci mette assai per attivarsi madonnina ma che cazzo è quel coso porca troia te ne vai a fare in culo mi serve un'iniezione delle mie oh oh l'ho visto eh dove è andato ecco chi oh madonna quanto preciso sto coso per fare un fucile da cecchino cecchinato proprio eh e questo che è che cazzo è quello ok voglio mettere la F e vedere che cosa mi da ah ok mi da solo 150 oh ma porca troia andate a fare in culo 2 lo dovete secare lo dovete secare normale goal damage dove si piglia il goal damage oh ti ho visto sai eh eh primo posto con 5 marchi ragazzi si mi agito quando si tratta di oh ma ecco il goal damage come il goal damage dove si prende il goal damage no 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 voglio morire come un pirla pirlone dai cazzone male ma questo serve per oh buono questo domina un po eh no eh no doveva ammazzarlo quello comunque fa schifo il mio campione voglio cambiare campione voglio quello con l'altra abilità quella voglio l'altra abilità oh madonna è stato bravissimo a segar oh ok tira 50 in più ma fa cagare sto god oh merda madonna ma questo che fa ma qui tira tre colpi tremendissimi madonna che non ci ho capito una sega non ci ho capito una sega intestate che? intestate solita dammi questo oh questo potrebbe tornarmi utile come arma buono madonna quanto è veloce sto gioco madonna quanto è veloce ma non dormirò più perché sono agitato come un bambino ma poco importa sono tornato ragazzi sono tornato oh ok oh 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 non è che mi puoi sparare così in truciapero attenzione di protezione in arrivo attenzione di protezione in appena sbettente eh eh questa arma è la mia preferita è diventata vuoi? vuole la protezione ma nessuno me la dà la protezione oh 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 quando dicevo che questa è la mia arma preferita indiettivo proprio è l'arma mia preferita guarda 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 donna che arrivo a prender porca oh mannaggia giù non è arrivato da dietro guarda che sono ancora primo in testa sono uno bravissimo guarda ah 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 cosa ho fatto ad arrivare fino a fase quando vuoi dopo uno lo vedo ehi ehi magia giù ok questa è al 20% in più uno ok no boom mamma mia quanta soddisfazione dà questo boom boom oh come cazzo è che gli salta delle inboxes fanno fatte bene ma nel male proprio aspetta e tre e due e uno ah dai ah ah rianimazione ti porta in un arco oddio quanta soddisfazione dà sto fucile da cecchino ti giuro oddio oddio te 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 ma fa il culo ero gasato ero quasi drogato attenzione 5 minuti cosa? 5 minuti è cosa? alla fine della fiera? questa? nooo nooo scegli il campione arma non posso cambiare uh è questo oh oh eeeh no attenzione eh porca però è che non muore mai questo non muore dai oh nooo da cazzo scegli campione ok cambiamo campione non so cosa faccia ma ce la facciamo bastare un carro armato un carro armato oh ma che cazzo sei coso ma non voglio il quad fottissimo damage però questo si cambia e boom madonna l'ho preso dai sali 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 merda 4 mio ok preso buono dove sei? dove siamo tutti? mamma mia mamma mia letale letale che cazzo è questo? mamma mia che bella quella e mori no è mio quello eh dai ma no no cosa mi ha ammazzato dai sono troppo primo allora mi piace questa questo campione devo dire no attenzione buono bravo cazzo sei bravo no quanto me piuttosto mi suicidio ok mi piace il fatto che ci possa arrivare praticamente dietro al nemico oh mamma mia ok aspetta dovevo prendere qualche cosa tipo questo e adesso non mi vede nessuno agli occhi eh ma dai ma chi è m'ha segalato torna indietro mannaggia satana mannaggia satana eh no e enjoy cazzo no oh l'avete cacca di cazzo bravo il suicidio è testa di minchia è mia sono sceso di parecchio nella classifica non posso prendere niente quando sono in questa modalità è praticamente inutile se non è solo per scappare aspetta torna su niente ho 14 sto schiattando mano carino il farm non lo avevo mai provato guardiamo un po' se esce qualcuno mia la frez oh cambiamo mettiamo questo beh ragazzi sto provando tutti quanti a sto giro perché voglio capire un attimo quale sia il più il più forte o perlomeno l'arma con la quale mi trovo meglio oh che cazzo c'aveva questo però è il meglio e questa è la mia arma definitiva no non è questa la mia arma definitiva attenzione bravo Nicola quando quando ce la vuoi fare sei molto bravo e la la mannaggia c'ha la è troppo bella luce ehi sono primo in classifica no 22 ma non sono fregato da però dai è andata piuttosto bene a parte che li ho cambiati li ho cambiati tutti però insomma tanta roba tanta tanta ci facciamo un'altra che dica mi va mi sembra una buona idea perché stiamo vincendo come le cose che vincono perché a noi ci piace vincere vediamo se c'è qualche bottino da premere yeah yeah betelta quando devi fai i giochi fatti bene eh è betelta adesso sono arrivato al livello 4 vediamo se mi da che cassa da aprire a livello 10 c'è la partita classificata favore oh è bottino allora apriamo bottino 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 avrei paura uh estetica leggendaria direi che va non so a che serva ma va bene lo prendo estetica leggendaria è questo fa cascare le palle invece qui ma tipo se volessi prendere un l'eriquario quanto costano un l'eriquario questa 5 ma tieni un cuo quanto costa? 19 euro ma voi siete pazzi? ma siete proprio pazzi? 19 euro per delle skin del cazzo? ma voi siete proprio ringoglioni come tutti quelli che prendono le skin di fortuna un po' per ringoglionimento in dengue ad ogni no non voglio offendervi voglio proprio offendervi oh guarda che carino questo direi che il glitch adesso vi andrebbe perché se non ho provato questo ruota adesso non so questo è carino però lui guarda che carino il mio glitch è gratis ancora per 2 ore e 33 minuti partite completate ancora 3 su 7 anche perché questo è il mio secondissimo gameplay la mega salute ripristina 100 punti di salute fin a 50 punti argentivi questi si consumano lentamente nel tempo e salute corazza rientra in gioco ogni 30 secondi fai meno i tuoi calcoli al recupero e non appena puoi ah Woken che carino guarda che bella l'arma che c'ho fatta di peli di cane ah è per barriera scaldati fammi provare il round comincia tra no volevo provare ve l'ho provare ok che dite lo provo la corazza si eh bam ma ma serva un cazzo la corazza oh e questo allora più bene eeeh attenzione stai attento stai attento a quanto no ma sto nell'acqua no stavo nell'acqua doveva consumarsi oh palla ma non mori io cazzo tre bene la sono voluta quest'arma è inutile ok non la voglio questa madonna ma che cazzo serve quella ma in testa è assorata in testa oh lasciamelo ma cia satana guarda che colore gay che c'ha attenzione bam eeeh 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 mannaggia eeeh eeeh ma mi sono suicidati ooo cazzo cazzo se l'ho ammazzato eeeh ho capito che la mia squadra è cold damage però non ce l'ho io che è peggio ok ma che cazzo serve la mia barriera tipo mamma mia è inutile come le cose inutili come le cose inutili cazzo che cazzo di arma ha un po' di darling dico sbagli arma però eh madonna se questo qua mi ha calcolato come come si calcolano le cose attenzione eeeh 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 e dai volevo cambiare non lo so la metto ma no non lo so benissimo non so se ci farò eeeh eeeh mi pare la fa fan culo al di là al di là di cosa mi fa schifo questo fucile a bomba attenzione oooohh doppia questa è mia mia bella questa mitraglietta ma è la mitraglietta standard no non penso sapete vorrei anche capire che tipo di arma eeeh manca troia tipo questa a che serve ma che cazzo che cosa ho lanciato devo decidere chi ammazzare no no che cosa ho lanciato ho un'arma definitiva di massa tipo questa tipo di questa eeeh dai eeeh eeeh e dai si col cazzo che ci entro oooohh porca di quella zoccola pallorda stronza che mi mette intossicata a te quella zoccola ma già satana che non serve a un cazzo quest'arma tipo effe che che cazzo ho fatto che faccio con questo eeeh oh ma madonna ma che cazzo cioè io devo capire che serve quell'arma perché veramente o è inutile come le cose inutili oppure serve un sacco come le cose che servono un sacco oh ti ho visto andami un attimo e arrivo eeeh ma quest'arma è un po' difficile da utilizzare Nicola è un po' ma che è tipo c'ha il simbolo di Doom questa è la tua arma prediletta oppure no? che arma hai presa Nicola? che cazzo ho messo? e dai ma non mi posso non ammazzarmi tutti no? vaffanculo questo è troppo difficile per me ma è una succub perchè va così veloce? eeeh il nemico ha il quad damage eeeh il nemico ha il quad damage eeeh il nemico ha il quad damage eeeh 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 oooohh grazie il quad damage eeeh eeeh e però fammela più a uno la maggia Cristina D'Avena in concerto aspettami 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 AAAAAAAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKO Rosato, bravo, eh. E questo? Wow, la super velocità. Mi sbaglio, è una merda questa. Merda. È miglia questa, grazie. Dai, dove sei? Do che cazzo è andato? Dai, non ci credo, è scomparso. Do stanno tutti? Eh, mo ce l'ho... Eh, l'ho visto, l'ho visto. Lo metto, lo metto. Ho super velocità. Ah, no, fa schifo questo qua. Vai, vai. Il nostro mostro. Che venti per cento. Attenzione. Oh, ottimo. È questo. Madonna, che cazzo c'ha io. Madonna, ma che era? Oh, oh. Bravo, Nicola. Salta fuori. Testa di cazzo, ecco perché sono varie squadre. Doppiarmi, per quanto tempo me le dà? Ma me le dà per poco, però queste doppiarmi... Fanno un male porco. Ma dai, che non ci credo. Gli sono arrivato dietro, verrà. Mannaggia, l'assistente sociale, mannaggia. No, vabbè, ma sto fatto che prenda il fuoco e non finisce mai di bruciare, è un macello, eh. Eh, dai, eh. Non ci credo. Comunque, doppiarmi, secondo me... Eh, però con questo fa male. No, con questo fa peggio, però. Ecco qua. Attenzione. Un minuto. E mori, madonna, che non mori, oh. Oh, cazzo. Oh, oh, sono stato l'ultimo a uccidere. Bene, ragazzuoli. Ci vediamo la prossima, Nance. E sto provando un po' di... di nuovi mostri malati. E faccio schifo, ho fatto schifo. Ci vediamo al prossimo G. Assinante. Sa